No, 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 giochi! Allora, guarda, se riuscivo a rimediare la carta di un pezzo appunto, quando vi altro ci fanno, ma ci sei dubbiati ancora. Tu stai pensando che tu sei, sei pronto, no, mi piace, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei. Avanti! Adesso, ciao! Ti ha messo il tavolo? Ah, messo il tavolo. Ciao! Ciao! Non ce ne vedo più, io lo so perché non ce ne vedo più, non lo so perché mi sono passata avanti, non ne riesco. E' quanto? E' beccato! Quanto è bello questo? Questo è lumina proprio! Questa l'accega proprio! Questa l'accega proprio! Questa l'accega è? Dai, mezzanotte! Questa l'accega è? Che fa fa? Sta spenta avanti arriva! Nooo, cazzo! Porco! Tania! 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 E dove vedi questa volta? Devele, questa volta! E' quarter と! e come va ormai amici non c'è più ha fatto cirecca oh oh sotto ce stanno aranci ci sei in caffetta il becco amico no aspetta che io il tuo pello come senti questa carriva eh non c'è un po' le colori No, no! Occhio, occhio! Senti che foto, eh! Vado! No, no, no! Vado! Una colonna! Bene! Ahahah! Dove sto la mia faccia perché ho un po' il cogliazzo sottofondo? Senti, io mi vergogno spazzicoli! Mi vergogno! Mi appaio! Ma certo, stai troppo vicino! Ecco, stai, stai! Maiole! Salve! Salve! Rivolta la scivolta! Quella palla, Ciscia! Quelli costano 400 euro, questa 50 euro!